la squadra si è allenata molto bene l'umore comunque alto nonostante la sconfitta e la squadra sta reagendo bene insomma questo è importante perché sappiamo che questo inizio di campionato è durissimo il brescia sarà un altro avversario fortissimo insomma lo conosciamo la storia del brescia tutto quello che che hanno vinto insomma parla i numeri parlano chiaro quest'anno hanno una squadra rinnovata ma una squadra altrettanto forte rispetto a quella che che tanto ha vinto nel passato quindi noi ci stiamo preparando al meglio e consapevoli anche di poter dire la nostra perché abbiamo tutte le qualità per poterlo fare naturalmente l'augurio che possano far bene in cempio perché squadre italiane che sono in cempio naturalmente diciamo danno lustro a tutto il movimento del calcio femminile quindi speriamo che vada tutto bene per loro e che rientrino un po stanche magari ma non credo che sarà così a parte le battute cioè sappiamo di incontrare una squadra che è talmente forte che ha una mentalità che è abituata a vincere la mentalità e quindi anche incontri avvicinati quando hai la testa per affrontare le partite riesci sempre a sopperire con quella insomma la mentalità è tanto secondo me le due settimane di pausa ci aiuteranno tanto perché non dimentichiamo che noi siamo una squadra rinnovata e che abbiamo bisogno di stare il più possibile insieme di allenarsi di migliorare certi automatismi equilibri di squadra insomma trovare una nostra identità che non può essere quella dell'anno scorso ma la stiamo costruendo e ripeto io sono fiduciosa perché le ragazze sono disponibilissime hanno reagito bene e hanno una gran voglia di lavorare e questo mi dà ottimismo per il futuro. Direi che i nuovi inserimenti sono stati ottimi anche la partita di sabato credo che le ragazze nuove che che hanno giocato hanno disputato una buonissima partita. Noi non avevamo al meglio tutta la rosa questo insomma devo dire perché c'erano alcune ragazze che non erano in perfette condizioni fisiche per giocare in Serie A anche se hai qualità devi stare al top fisicamente e anche di testa quindi io preferisco sempre responsabilizzare tutto il gruppo in questo perché io ho fiducia in tutte quindi se c'è qualcuno che non è al top entra un'altra e questa deve essere la nostra mentalità. È chiaro che si può un po' patire all'inizio però poi credo che alla lunga questo sia da stimolo importante per tutto il gruppo perché non voglio assolutamente titolare riserve ma tutte giocatrici che siano disponibili e che crescano insieme perché da qui alla fine ci sarà bisogno di tutte. Questa deve essere la nostra mentalità e questo è quello che sto impostando sin da subito. Per sabato sì mi sento di dire che la condizione ad esempio di Fabiana e anche quella di Stefania, di Stefania e Zanoletti è migliorata, le ragazze stanno bene e quindi potrò attingere diciamo a tutta la rosa, sono tutte convocabili potenzialmente e tutte potenzialmente possono partire come undici titolare. Questo mi fa piacere, mi fa felice perché quando ho tutte a disposizione posso scegliere serenamente sapendo di poter contare su tutte. Grazie. Grazie.